Il concetto di Eterno è qualcosa di molto variabile e che mia madre, Dio solo sa quanto le voglio bene, ha un carattere a dir poco difficile e con gli anni non è migliorato affatto. Fatto sta che con una formazione di calcio, dopo Roberto ho conosciuto Marco, Leon, Tommaso, Furio e via dicendo, ma nessuno di questi, ahimè, era il tipo giusto per mia madre e presto o tardi sono finiti tutti a ghiacciarsi e sedere in tribuna scoperta, senza ombrello. Il suo cuore batte ancora per papà, ne sono sicuro, almeno così mi piace pensare e magari, un giorno, potranno tornare a litigare felicemente.